allora siamo fermati per farci un tè siccome volano le pietre anche le macchine volano e come puoi vedere siccome c'è la venta giriamo la macchina che ci proteggiamo dal vento allora l'ha ben girato un po' però non è giusto per gradire quasi quasi monto il crane e ti faccio due riprese dall'alto si chiara che la svuoti levati la roba un attimo sto facendo due riprese da sotto che non l'avevo ancora vista